Ciao a tutti amici, benvenuti al mio canale, io sono Moira e oggi siamo su The Forest of Blitz and Rain. Allora, l'ultima volta abbiamo ottenuto il finale numero 5. Di solito quando finiamo un RPG poi vado a leggermi una guida che spiega come ottenere gli altri finali. Ovviamente non leggo il finale ma solo come ottenerlo. Questa volta non sono andata a leggermi niente perché mi è venuta in mente una cosa e secondo me possiamo ottenere un altro finale in questo modo. Ora vi mostro. Allora, dunque dovrebbe essere questo. Ok, quando siamo arrivati in questa stanza, leggendo fra i vari documenti abbiamo trovato una chiave. Eccola qui, abbiamo una chiave. Poi io sono andata direttamente verso le scale e abbiamo ottenuto il finale numero 5. E quindi questa chiave non l'abbiamo usata. E se non ricordo male, più indietro c'era ancora una porta chiusa. Non vorrei magari che quella chiave... Oddio, dove siamo? Ehm, sì, di qua forse. Non vorrei che magari la chiave servisse per aprire qualche porta, tipo questa. Questa qua mi sembrava chiusa. Esatto. Eccola, perfetto. Possiamo aprire la porta con la chiave. Ok, quindi secondo me in questo modo riusciamo ad ottenere un altro finale. Saldiamo su 7. Oddio, come si... Ok. Allora, questo che cos'è? C'è dell'acqua dentro. Sembra che l'acqua non sia stata cambiata da molto tempo. Ma sembra abbastanza pura. Ok, è strana questa cosa. Allora, di qua si può andare. Ok, c'è un... Sopra la porta c'è una pietra che sta scintillando. E di qua invece? Ah, di qua ok, si può passare. Dei cestini vuoti. Cose vecchie. Però. Ok, Suga sta, credo, guardando i libri, ma non ha trovato nulla. E quindi ha rimesso il libro sulla libreria. Ah, basta, ok. Basta? Va bene, ok, basta. Qui cosa c'è? Ah, ok, una lampada. Oh, che cos'è questa cosa? Una maschera yakasha. No, io... No, aspetta. Yakasha. Non so come si legga. La maschera di una donna. E la maschera di un oni. Allora, la donna inseguita dall'oni. Quindi dal mostro. A volte può diventare un yakasha. Ok, quindi il yakasha sarebbe un'incrocio fra un oni e una donna. Va bene. Il bambino che può mandare questo yakasha verso lo yomi. Che lo yomi sarebbe una specie di dio degli inferi giapponese, credo. Però manca un frammento, quindi non può più leggere. Comunque, per non cadere tra le mani dell'oni, questo posto è l'unica protezione. Questo posto è l'unica opportunità per salvarsi, credo. Va bene. Allora, qui... Ok, c'è un, credo, un vecchio libro, dei documenti, tipo. Allora, ci sono dei dettagli riguardo alla struttura interna del passato della Zakawa Village. Ok, va bene. Esatto, praticamente in questo libro è scritta, credo, la storia del governo del villaggio. E questa è una storia che sa di sangue. Per il crimine che un capofamiglia ha commesso, l'indenità può essere pagata solo con la sua stessa famiglia. I bambini sono stati assegnati a una pena, quindi dovranno pagare una pena, oppure dovranno essere venduti, sold e venduti. Le donne, invece, finché non diverranno vecchie, quindi saranno cacciate via, loro saranno, tipo, richieste... Ah no, sono richiesti i loro corpi, tipo, per il villaggio. In che senso i loro corpi? E in ogni caso, finché la prigione... Finché la prigione rimarrà nelle profondità della foresta e fin tanto che chi gestisce le donne imprigionate saranno tutti uomini, accadrà che l'indennità che queste donne dovranno pagare sarà molto crudele. Ok, in che senso? Questa pratica privata di punizione continuerà finché la foresta non sarà bloccata, quindi credo chiusa, l'accesso sarà chiuso. Le donne in questo posto dimenticato della foresta sono le sole che furono, diciamo, tenute prigioniere in questa situazione. Quando io ho investigato sui miei antenati, ho scoperto un libro che i miei antenati scrissero riguardo agli uomini che divennero pazzi con le mogli delle altre persone. Partendo da questa mia considerazione, può essere che i crimini, credo, di cui venivano accusate queste donne, fossero in realtà delle false accuse. Ah, ok. Oddio, allora. Quindi, i bambini venivano venduti, le donne venivano rinchiuse, e come punizione succedeva qualcosa a queste donne. Non vorrei fosse qualcosa tipo violenze di qualche tipo. Vabbè, non importa, andiamo avanti. Ah, ok, c'è un altro libro. In modo da salvare le donne, era necessario dare in offerta, in un cesto, posto sopra ad un piedistallo, un cadavere purificato, con un cadavere purificato messo all'interno, credo, del cesto. Ok. In ogni caso, il contenuto del cesto è incompleto, quindi è impossibile fare questa cosa. Forse questa è la sola speranza con cui i nostri antenati guidati da un senso di colpa si sarebbero lasciati alle spalle queste cose. in modo così che le donne non fossero completamente consumate dagli uomini come demoni che distruggevano ogni cosa trasformandola tipo in pazzia. In ogni caso, noi non abbiamo trovato la parte mancante del corpo per purificarlo e rimetterlo quindi nel cesto. Quindi questa speranza non può essere accolta, quindi è una speranza vana. Anche se si tratta solo di un piccolissimo frammento. Frammento, eh? Frammento? E quindi? Allora, abbiamo capito un po' di cose. Se un capo di famiglia commetteva un... non un crimine, comunque commetteva qualcosa, chi pagava le conseguenze era la sua famiglia. I bambini venivano uccisi o venduti, le mogli venivano sequestrate dagli uomini che probabilmente le violentavano, ok? E l'unico modo per... e molto probabilmente però queste accuse erano infondate, quindi le donne e i bambini sono stati... sono stati crudelmente uccisi e violentati ingiustamente. Quindi gli antenati, nel documento diceva, gli antenati, il loro unico modo per liberarsi da questo senso di colpa è purificare un cadavere dentro ad un cesto posto in un piedistallo. Il problema è che manca un pezzo del cadavere. Ok, mi sa tanto che dobbiamo trovare un cadavere. Allora, qua ci sarebbe un cesto. Non è che magari dobbiamo rifare il rituale, no? Però il cesto non me lo prende. No, perché io avrei anche una mezza idea. Non è che la Cottori Obache è una di quelle donne e tutti quei bambini sono i bambini che sono stati uccisi? Ingiustamente? Non vorrei dire. Allora, questo qua che cos'era? Perclin... Momento, che cosa? Ok, c'è dell'acqua pura, questo l'avevamo capito. Pulisci il frammento? Che frammento? No, fermo. Che frammento abbiamo? No, è vero! Completamente dimenticata. Avevamo un frammento. Bianco come il latte. Sì, ma non è un frammento di cadavere, credo. Ancora all'inizio avevamo trovato un frammento bianco per terra. È questo! Ok, io salvo. Va bene, purifichiamo il frammento. Ah, ok. Forse parlando di frammento si riferiva a questo? Ok, ma non è un pezzo di cadavere. Noi dovevamo purificare un cadavere? Vabbè, purificato il piccolo frammento. E quindi? C'è ancora acqua dentro. Ah, basta! Ok. E quindi? Ah, forse adesso posso prendere il ce... No. Allora, di qua non si può andare, no? Ah, ok, adesso sì! Ok, adesso si può andare. Salve. Uh, che succede? Ok, il pavimento è tipo ricoperto da una sorta di scrittura. Qualcosa che riguarda la religione buddista? Forse è una preghiera. Ok. Allora, vediamo. Ah, qua ci sono dei cesti. No, per niente. Questo che cos'è? Ok, perfetto. Abbiamo trovato il cesto. Rimetti il piccolo frammento dentro il cesto. Ok. Mi sa tanto che stiamo veramente rifacendo tutto il rituale. Ok, l'abbiamo messo dentro. Che succede? Che succede? Salve. Grazie. Ora, con questo, posso finalmente uscire. Quindi, per favore... Portatemi lontano da qui. E lasciatemi incontrare la mia cara mamma. Sicuramente. La mamma mi sta cercando. Ok, che cosa... Ah, quel ragazzino lo conosco. L'ho incontrato nella foresta quando ero piccola. Ok. Capisco, quel ragazzino è ancora qui. Perché vuole incontrare sua madre. E c'è? Quindi? Che si fa? Ah, adesso controllo sciori, comunque. Ok. Porteremo il cesto sul piedistallo. Ok, prendiamolo. Ah, c'era un piedistallo di pietra sulla strada, sul sentiero. Non l'ho visto. Suga? Che c'è? Ok, abbiamo preso il cesto. Allora, ha detto che c'era un... Un piedistallo. Questo... No, questo non credo. No, infatti. Allora. Di qua. Allora, vediamo se magari... Da questa parte c'è qualcosa. Qua ci sarebbe questa cosa qui. Sì, ok. È un piedistallo fatto di roccia. Possiamo metterci il cesto? Ok, sì. E quindi? Forse ora va tutto bene. Ok, io salvo. Ma quindi? Che facciamo? Cosa? Questa... Quel suono? Ora? Può essere... No! Che la pietra fuori si sia rotta? La pietra scintillante? No! Suga? Che stai facendo? Oh! No! Ma perché? Abbiamo fatto il rituale! Mia piccola piccola bambina. Svelta, svelta! Vieni qui! Ma anche no. Suga, torna indietro! Suga! Che cosa? Ok, è lo spirito del bambino. Mamma? Mamma? Ma abbiamo capito! Finalmente ti ho incontrato, mamma. Eh? Piccolo bambino? Il mio piccolo bambino! Oh! Che cosa? No! Fermi! Che sta succedendo? Piccolo bambino! Che sta succedendo? Ah! Ah! Piccolo bambino! Piccolo bambino! Il mio piccolo bambino! Ottio! Non ditemi che... Il mio piccolo, piccolo bambino! Finalmente io... No! È veramente il figlio della Cotario Bache! Finalmente ti ho trovato, mio piccolo bambino! Allora forse è per questo che la Cotario Bache cercava tanti bambini! In realtà era per cercare il suo! È stata una cosa agonizzante, una cosa dolorosa! Mi dispiace, mi dispiace! Mamma! Mia cara mamma! Torniamo indietro insieme! Staremo sempre insieme d'ora in poi! No! Che bello! Ok! Quindi forse con il rituale abbiamo liberato lo spirito del bambino e lui finalmente ha incontrato la madre! Finalmente! Si sono incontrati! La madre e il figlio! Forse andiamo! Sicuramente ora la Cotario Bache sta bene! Bello! No! Oddio! Che cosa? No! Che sta... Non vi lasceremo andare? Non vi lasceremo andare! Mamma, 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 mamma! Lei... Era... Pensavamo che lei fosse nostra madre! E... Oddio! Sono gli spiriti degli altri bambini! No! Che cosa? Non... Vi lasceremo andare! Perché... L'unica persona che ci ha ucciso è la mamma! No! Oddio! Adesso gli spiriti degli altri bambini si sono... Sono arrabbiati! Perché la Cotario Bache li ha uccisi! No dai! Aveva ritrovato suo figlio! Questo! No! No! Che succede? No! La uccidono! La Cotario Bache! No! Correte via! Mamma! Mamma! No! Che cosa? Quindi... Correte via! Correte via! Voi ragazzi! Presto! Andate via da qui! Credo si stia... Si stia rivolgendo a... Shiori e Suga! Questo ma... Correte via! Se non correte... I prossimi... Credo sarete voi! Oddio! Va bene! Ce ne andiamo! No! Ma come? Perché? Oh no! Dove siete andati? Pensavamo saremmo stati per sempre insieme! Con la nostra Oni-chan? No! Sento quelle voci! I bambini mi stanno chiamando! Oddio! Che succede? Spaventoso! 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 Ah sì giusto! Sono spaventati da Suga! Sarebbe stato meglio se tu non fossi mai esistito! Sei spaventoso! Dacci! Da... Così... Ah credo... Dacci Sciori! Tu sei sulla nostra strada! Ehi! C'è qualcuno là? Chi è? Ah... Quella... Oh ok! La voce dell'officiale Mokizuki! Suga! Andiamo! Oddio! Devo fare io però salvo! Però salvo! Vai! 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 Ok c'è un'appertura da qualche parte! Qui! Siamo qui! Ah Oni-san! Sapevo che tu fossi qui! L'officiale Mokizuki! Presto! Presto! Tiriamoli fuori? Ok ho capito! Voi ragazzi state bene? Sì? L'officiale Mokizuki è svelto! Se non ti sbrighi Oni-san sarà in pericolo! Ok ora prendo qualcosa per farvi arrampicare! Ok! Ok alla fine siamo riusciti a scappare dalla foresta sani e salvi! In ogni caso non è importanza quanto tempo sia passato! Ah ok io continuo comunque a sentire le voci di quei bambini nella mia testa! A differenza della Katoriobake loro hanno delle voci crudeli che invadono le mie orecchie e la mia testa! In quel momento Sakuma mi disse Questa volta i bambini ti stanno chiamando Oni-san Dicono che ti vogliono Sempre Dall'interno della foresta ti stanno chiamando Ma i bambini sono spaventati dal manager quindi da Suga E quindi non verranno mai fuori dalla foresta Guardando la faccia completamente palida di Sakuma Mentre disse questo Non potevo pensare che questa fosse una bugia E quindi quando la questione riguardante le circostanze di questo incidente fu passata Io feci una nuova promessa con Suga Non tornerò mai più vicino a questo villaggio ancora Questa è la mia nuova promessa Questa persona quindi Suga In modo che gli spiriti dei bambini non uscissero mai dalla foresta Continuerà a rimanere in questa casa Da ora in poi E io Non potrò più avvicinarmi No ma che tristezza Non importa cosa io abbia detto No per favore no Suga non vuole ascoltarmi Va tutto bene Perché non è nulla di diverso da tutto quello che è successo finora Scrisse lui in una nota Io non risposi Con questa sensazione di essere senza aiuto e tipo soffocata Arrivai alla strada verso casa I ricordi di ciò che è successo in questo villaggio e nella foresta E tutto ciò che riguarda Suga Non le dimenticherò mai Nemmeno ciò che ho perso E ciò che Mi ha fatto piangere Non andrò più a visitare il villaggio d'ora in poi Solo Solo che lui Trascorrerà tutti i suoi giorni Nel museo Nel museo da solo Non c'è nulla che io posso fare Ma io Sogno e spero Oddio No No davvero Finisce così Quindi alla fine anche se noi siamo riusciti a liberare la Cottoria Ubake Lei è costretta a tornarsene a casa Ad andarsene perché comunque ci sono gli spiriti dei bambini che la vogliono Però lei non potrà mai più tornare a Zakao Village E invece Suga non potrà mai lasciare la Zakao Village Quindi non si potranno vedere mai più in alcun modo È triste Sapendo quello che hanno passato anche quando erano piccoli Il loro legame È triste questa cosa che non potranno mai più rivedersi Ok finale numero 3 comunque La promessa del guardiano Ok Ma perché sono tutti tristi così? D'accordo allora Abbiamo ottenuto il finale numero 3 Come ho detto non ero andato a leggermi nessuna guida Perché appunto mi era venuta in mente Che avevamo trovato la chiave E sicuramente bisognava usarla da qualche parte E infatti Così abbiamo ottenuto il finale numero 3 Adesso Non c'è altro che possiamo fare Nel senso Non mi sembra ci fossero altre scelte O altre cose da trovare Da fare Quindi non saprei sinceramente come ottenere gli altri finali Quindi Come sempre Vado a leggermi la guida Su come ottenerli Ovviamente non leggo cosa succede Perché non voglio rovinarmi le sorprese E quindi Niente Nei prossimi episodi Vedremo di scoprire i prossimi finali Quindi Lasciate un piaccio con me Se il video vi è piaciuto Iscrivetevi al mio canale E noi ci rivediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.